Il comune non deve fare nulla perché non è compito questo del comune, il compito è quello del governo, noi abbiamo informato naturalmente il governo, ci auguriamo che il governo faccia attraverso la prefettura il suo dovere. Risponde così il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna alle critiche che gli sono piovute addosso per aver disposto stamane lo sgombero e la sanificazione della galleria Bombi. All'interno del passaggio pedonale che da Piazza Vittoria arriva alla Casa Rossa infatti bivaccavano ormai da settimane fra i 30 e i 40 migranti ma non è chiaro se si tratta di espulsi dal carro di Gradisca oppure di soggetti che non trovano spazio nel sistema dell'accoglienza ormai saturo. In questo momento il comune non ha risorse, non ha strutture, non ha spazi perciò il governo che è deputato, che è quello che consente l'accesso in Italia a queste persone deve ovviamente trovare spazi adeguati. Le proposte noi le abbiamo fatte insieme agli altri sindaci, ad esempio abbiamo proposto di individuare delle caserme rigorosamente fuori dai centri abitati, caserme ce ne sono e come, diciamo che con queste caserme senza dubbio il governo ha la possibilità in pochissimo tempo di trovare lo spazio e di risparmiare, abbiamo calcolato solo nella nostra regione, almeno 15 milioni di euro. Il sindaco è il responsabile della salute pubblica, ricorda Ziberna, e la presenza dei migranti in Galleria Bombi stava generando un allarme nell'opinione pubblica per la possibile diffusione di patologie contagiose. L'intervento odierno, che è a seconda distanza di un mese, arriva a 48 ore dall'inizio di Gusti di Frontiera e si inserisce nella serie di provvedimenti in corso di adozione per garantire il corretto svolgimento della grande manifestazione enogastronomica e culturale. Queste misure di sicurezza adottate un po' in tutta Italia, adottate anche a Udina, naturalmente adottate adesso anche a Gorizia, io le do una lettura diversa. Sono tutti strumenti che ci consentono di garantire a tutte le 6, 700, 800 mila persone che saranno presenti di venire qui a Gorizia proprio per divertirsi, letteralmente per divertirsi senza correre alcun rischio. Peraltro, come già accaduto la volta precedente, al termine dell'intervento degli operatori di Isambiente, alcuni migranti si sono nuovamente riparati all'interno della galleria. Il problema quindi è ben lungi dall'essere risolto.